I gioielli commestibili sono gioielli realizzati proprio con il cibo. La collezione che presento qui al Foriexpo è una collana che si chiama Bijou Chocolat Boule in quanto è realizzata con delle sfere cave di cioccolato fondente, cioccolato quindi amaro, molto buono, molto gustoso, rivestite con la foglia d'oro. È oro puro, oro zecchino, oro alimentare. Quindi in questo caso anche l'oro è un alimento commestibile. Mi definisco un'artista designer a Orafa, nel senso che creo gioielli ormai da 25 anni. Dalla data di scadenza alla data di scadenza dell'alimento e comunque è un gioiello che quando viene indossato non con i vestiti ma sulla pelle inizia a fondere, a consumarsi, il cioccolato si scioglie e fra l'altro è il momento in cui sensorialmente si sente il profumo che è un profumo stupendo quello del cioccolato. E potrei assaggiare questa piccola sfera di cioccolato. Il gioiello è oltre ad essere bello, in questo caso è anche buono. Al correctionale Al tastiera don connettore, come qualidade di sicurezza... Alину o Protest, insomma è χelulare, è vero, vero, Claire e Rom происходит a cura di esse